Io qua devo andare piano piano, la macchina si è scassa se tu dipende come la vuoi Allora, vicino a Giacomo c'è una catella, cane, c'è il buono del cane, questa catella perciana, sì, lo vedi? Cane? Sì, questa catella perciana, però vedi che c'è il buono piano piano perché c'è la catella Come giardino, meglio di chi di fuori, è quasi quasi Veramente è quasi che meglio di chi di fuori, quasi quasi Lo sa che ci aspetta a noi, com'è? No, non aspetta però una danna la canuccia, ora vediamo C'è su, noi ci sono, mi chiamo guarda l'ammazzatore, qua la danna non può fare Guarda, lui è che? È una tedesca cos'è? No, ma che tedesca, italiane sono, che tedesca E' un'altra cosa, non c'è mai c'è più E' un cane cos'è? Che fanno questi cani? Prende i cani, i cani sono un cane di caldo, stanno attendo Stanno a essere, un abbagno, un papela, ci faccio cosa lì Perché mangi? Ci decchia di un'altra teglia, lecchia, lecchia Ma se per domani, come sapete, se c'è avuta l'ambretta Purtroppo, più 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 Vabbè, l'ambretta non è che è un'altra cosa E' un'altra teglia, lecchia 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 Lecchia